Ciao ragazze, eccomi qui con un nuovo video e con questo panorama diamo il via al mio nuovo outfit è un outfit diciamo più comodo, da scampagnata, infatti quel giorno era proprio il giorno del 15 di ferragosto quindi scampagnata sia per tutti e niente, passiamo all'outfit allora come giacca, poiché faceva un pochino fresco, ho indossato questa giacca di pelle nera presa all'OVS che io adoro e utilizzo quasi quasi tutto l'anno non proprio tutto 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 perché altrimenti diventerei un pezzo di baccalà ma quasi tutto per quanto riguarda la t-shirt ho utilizzato questa maglietta sui toni del lilla con la stampa floreale asimmetrica sui laterali e con una manica a tre quarti è un panda collant semplicissimo, nero, all'insegna della comodità insomma per quanto riguarda il makeup invece una doppia linea di eyeliner, una nera e una sui toni sempre del rosa lilla e per le scarpette, queste scarpette dell'età della pietra direi, oserei anche dire che sono della Nike, anche se lilla e niente, questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, l'outfit anche, se vi va spolliciate vi lascio tutti i social nell'info box, vi ringrazio per aver guardato il video e ci vediamo nel prossimo, ciao! ciao!